Ho trovato questo corso che mi ha letteralmente sbalordito perché ho visto immediatamente come lo chef Andrea Vigilio spiegasse in maniera così semplice passaggi che magari possono sembrare un po' più complicati in modo così semplice e dettagliato. È forse unico nel suo genere perché non ho mai trovato su internet dei corsi così dettagliati, così pieni di ricette, di video. E come professione faccio il pasticcere. Voglio realizzare questo video per fare i miei complimenti allo chef Andrea Vigilio. Il corso che ho acquistato sono pienamente soddisfatto per la sua realizzazione dei suoi dolci, per la sua tecnica, il gusto, la fantasia. Ma la cosa non è differente è che per qualsiasi mio dubbio, domanda, è sempre disponibile. Anzi, mi risponde velocemente. Si può seguire la lezione quando si vuole e questo è stato per me il top. Devo dire che le lezioni teoriche e pratiche sono chiarissime. Inoltre il prof Andrea è una persona molto professionale, molto molto bravo a spiegare. E risponde in prima persona all'interno del gruppo. Che tu fai una scuola, perché Andrea è un... Ho capito che è moltissimo bravo, bravo, bravo veramente. Che ci insegna tante cose. Tu dici a 61 anni sei scritto al corso. Sì, mi sono scritto al corso. Perché mi diceva il vecchio pasticcere che francavo io. Hai sempre da imparare. Tutto qua. Andrea è bravissimo, è bravissimo, bravissimo. All'interno di questo videocorso ha superato ogni mia aspettativa. Preciso, dettagliato. Teoria e pratica si fondono praticamente in un equilibrio perfetto. Ma quello che a mio avviso fa la differenza è che il maestro ci rende padroni di una tecnica. Non si limita a trasmetterci un ricettario. Sono molto soddisfatta e molto contenta di averlo acquistato. Considerando anche il costo rispetto ai numerosi contenuti di questo meraviglioso corso. E mi sto trovando molto bene sia a livello di completezza delle ricette che a livello di assistenza molto puntuale. Poi è possibile dialogare con lo chef che risponde in tempi molto rapidi. Dove ti spiega appunto a punto tutto quello che c'è da sapere sulla pasticceria è veramente ottimo. A me ha servito tantissimo a migliorare in pasticceria e che posso dire di più compratelo perché è veramente istruttivo. Non ho mai visto un corso così fatto bene. Ti spiega in maniera semplice, in maniera ottima come eseguire una ricetta. La si può fare anche se non si è del mestiere e quindi non si è un professionista pasticciere. Quello che posso dire è che sicuramente tutte le ricette, tutti i metodi, tutte le malizie, tutto quello che ha trasmesso in questo corso sono sicuramente tanti anni di esperienza. Non è un anno di lavoro, non è qualche ricetta trovata qua e là ma sono sicuramente anni e anni di esperienza. Personalmente mi piace molto, lo trovo molto interessante. E sono contentissima. Lo consiglio veramente, veramente a chi è appassionato di dolci. Lo chef è veramente ok. Salve a tutti, sono Silvio Pala, pasticcere da 55 anni e tecnico dimostruttore da 35. Ho voluto acquistare un paio di corsi di Andrea e devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dalla sua preparazione, la sua professionalità, la semplicità e la chiarezza con la quale spiega le sue preparazioni. Ho trovato i suoi corsi davvero interessanti e ricchi di contenuti sia per i professionisti come me, sia perché è alle prime armi con la materia. Non posso che ringraziare Andrea per l'idea innovativa e consigliare a tutti i corsi online di pasticceria di Giglio, che offrono davvero lezioni di qualità abilmente spiegate da un maestro entusiasta e coinvolgente. E' il top. Sono Abib, sono il pizzaiolo di Piacenza e anche io vorrei fare la mia recensione sul corso di Andrea di Giglio. Allora, io credo che lo chef Andrea di Giglio sia un professionista e un maestro che ha il dono di insegnare. Non tutti i maestri hanno questo dono, dico il modo di insegnare perché ti fa arrivare alle cose e ti fa comprendere le cose molto, molto più facilmente. Per la pensione mi sono regalata questo corso, visto che la pasticceria è sempre stata la mia passione. Questo corso è molto completo, lo chef è bravissimo nell'insegnare e paziente nelle risposte alle mie domande. Consiglio questo corso a tutti quelli che amano preparare dolci. Provateci, è veramente veramente bello. Ciao! Un corso completo, spiegato nel minimo dettaglio, in maniera semplice e alla portata di tutti. Ho comprato questo corso perché avevo bisogno di capire tante cose della pasticceria e con il professore Andrea sono riuscita. Io sono contentissima con questo corso, veramente consiglio, anche la sua assistenza è escepzionale. Grazie di cuore, professore Andrea. Io ho un panificio alla Spezia e sono sempre alla ricerca di migliorare i miei prodotti. Invece con Andrea Di Giglio è diverso perché i corsi sono registrati, te li puoi riguardare per un anno quante volte vuoi. Se hai una domanda la poni allo chef e lui ti risponde e secondo me è un successo, è una cosa che farà migliorare parecchi panificatori come me. Niente, volevo solo dirvi che il corso è veramente molto aggiornato, molto semplice, molto pratico. Io colgo l'occasione per qualcuno che fosse ancora titubante per acquistare questo corso che è molto valido. Io essendo pasticciere da una vita posso dire che attraverso piccoli dettagli che magari io non sapevo, perché nel corso degli anni le tecniche cambiano, cambiano le materie prime, cambiano le attrezzature. Come le ricette sono sempre valide, bisogna solo un attimino adeguarsi ai tempi e alle nuove tecniche. Posso dirvi che lui col suo modo di spiegare farà sì che ognuno di voi possa eseguire dei dolci perfetti. Diciamo che mi sono voluta affidare, buttare e comprare appunto il suo videocorso. E devo dire che sono rimasta veramente stupita, anche perché oltre a imparare un sacco di ricette di pasticceria, comunque anche cose che non avevo la minima idea di come fare, ad esempio io tipo il macaron o il panettone, dato che siamo sotto il periodo natalizio. E anche come gestire il lievito madre. Devo dire che è strutturato con una serie di video, dove spiega in modo semplice cose molto professionali, come ad esempio la gestione del lievito madre, dove prima non riuscivo ad avere un risultato soddisfacente, mentre ora vi mostro quello che sono riuscita a fare, seguendo il suo videocorso. Questo è il pane che ho cotto stamattina e devo dire che è anche molto buono. Viene molto spiegato bene, mi piace tanto perché viene spiegato in maniera semplice, intuitiva. Lo consiglio a tutti che vogliono fare le cose fatte bene, perché viene spiegato veramente in maniera molto bene. Dopo aver visto le prime due lezioni e come spiegava lo chef, ho deciso di comprarlo. E devo dire che ho già provato un sacco dei suoi prodotti e sono riusciti, quindi lo ringrazio. Mi hanno dato modo di perfezionare i cornetti. Alcune nozioni, sia teoriche che pratiche, mi hanno permesso di capire cose che finora non erano stato in grado. All'interno di questo corso ci sono dei video dove lui spiega molto bene come si fanno a fare tutte le cose, dai croissant, dalle brioche, ai craffen e tutto. Inoltre ci sono anche le ricette. E poi c'è una parte che riguarda la spiegazione sulle farine, sui vari tipi di farine, sui vari tipi di burro da usare e anche le temperature all'interno dei lievitati. Sono molto contenta, è la prima volta che faccio questo corso. Le ringrazio tanto lo chef. Inoltre volevo ringraziarlo anche perché è stato molto disponibile. Qualora avessi avuto bisogno ho potuto telefonargli e lui appena ha potuto mi ha richiamato e mi ha spiegato alcune cose che non capivo. E la ringrazio tanto di tutto. Per quanto riguarda il corso del Maestro Giglio vi posso assicurare che è veramente una passeggiata. E mi ritengo ancora, ritengo che siano veramente soldi spesi bene perché mi piace, mi piace e ne sono veramente contenta. Vi posso assicurare che lo ricomprerei. Grazie a tutti.